Si stampava una copia in Technicolor in tre giorni e una copia in monopac in mezza giornata, per cui siccome quello che vince è il denaro, come sembra una legge della vita naturale ormai accettata da tutti, quindi fu deciso, Technicolor decise che il sistema non era più industrialmente valido, per cui venne cancellato. Noi arrivamo proprio nel mondo, con sospira, nel momento in cui stavano decidendo di toglierlo, l'avevano già tolto gli stabilimenti Technicolor, come si sa nel mondo, che erano quelli che hanno fatto il sistema, sono basilarmente Los Angeles dove è nato il sistema Technicolor, Londra, New York c'è un piccolo laboratorio di Technicolor, poi c'è Londra e Roma, noi abbiamo avuto la fortuna, devo dire, di avere a Roma già da moltissimi anni questo laboratorio di Technicolor, per cui tutti i film di Visconti e di Fellini sono passati attraverso, di altri passati attraverso questo magnifico laboratorio, con il sistema Technicolor. Era rimasta una sola macchina alla Technicolor di Roma, noi ci siamo lanciati, abbiamo bloccato, abbiamo detto no, dobbiamo fare per forza, Sospira ha bisogno di questo, visto che noi già in ripresa utilizziamo un contrasto di colori così violento, vogliamo esaltarlo ancora nel momento della stampa. Quindi hanno lasciato la macchina, abbiamo stampato, con il sistema Technicolor abbiamo fatto le tre matrici, addirittura per aumentare il contrasto del colore abbiamo tolto, tra una matrice e l'altra, veniva messo una specie di leggero filtro diffusore per ammorbidire i bordi, perché per non far sentire che la matrice del verde andava un po' spostata, si spostava un po' rispetto a quella del rosa e quella del blu, c'era una leggera diffusione. Noi abbiamo deciso di far togliere questo filtro perché ogni colore restasse assolutamente puro e addirittura non ci preoccupavamo del fatto che in un dettaglio in cui un'attrice si mette della lacca rossa sulle unghie, questo colore uscisse fuori dal confine fisico, e anzi questo ci piaceva molto. Dopodiché stampato il film, le macchine furono smontate e vendute ai cinesi. Ogni scena di Suspiria per me è stata un'esperienza straordinaria, quindi ricordo l'incendio fuori della casa, l'arrivo all'aeroporto, che poi abbiamo girato anche abbastanza in ordine, di Monaco, dove abbiamo cambiato ovviamente all'interno dell'aeroporto, per cui dopo i passeggeri si perdevano vedendo questi colori. La scena subito in macchina, quella fatta nel primo piano, dell'attrice fatto in teatro di posa, con tutto quel movimento di acqua, ogni inquadratura, ogni scena era fabbricata a mano, costruita artigianalmente a mano. Tant'è vero che una delle, non delle condizioni, perché io non ho detto nessuna condizione, specialmente a un regista come Dario Argento che già era affermatissimo, quindi non c'è da dettare condizioni, ma io avevo richiesto a Dario, per esempio, di fare tutti i trucchi in ripresa, di non fare nessun trucco dopo, perché ho detto, a me per me questo film è l'occasione di fare una cosa sperimentale in un certo senso, fare un grande film prima di tutto. Una cosa che è anche sperimentale, ma che però si aggancia allo sperimentalismo di Mellier. In Suspire abbiamo avuto un esterno, abbiamo avuto molti esterni ovviamente, ma un esterno notte, insomma da far tremare veramente le vene i polsi, come si diceva un direttore della fotografia. Perché è un esterno notte immenso, è la piazza di Monaco dove italia adunate oceaniche al tempo del nazismo, quindi immensa, con questi poi tempi finti greci, classici, ai bordi, e per cui era veramente una scena molto difficile da illuminare, a certo punto ci siamo risolti comunque a farla, anche se era molto difficile, e abbiamo quindi avuto una preparazione abbastanza lunga, prima di una settimana, mi sembra, di persone che sono andate a montare le torrette, mettere gli archi, queste grosse luci che avevo allora, si utilizzavano, era l'unico modo del resto per illuminarle. Ho preso un arco, che è una grandissima lampada, che adesso quasi non esiste più, cioè molto potente, e ho messo davanti, per esempio, a questo arco, ho messo una stoffa colorata, invece di mettere una normale gelatina, e quindi però questa stoffa mi permetteva di avvicinare molto la sorgente di luce all'attore, e l'effetto era di un colore, praticamente come se uno prendesse del colore proprio fisico e lo lanciasse in faccia agli attori. In Suspire l'abbiamo totalmente negato, abbiamo dimenticato il naturale, e siamo andati verso l'artificiale. Ora, siccome si sa che l'artificio è una delle grandi, e anche in qualche modo è l'imperfezione, cioè un piccolo cattivo gusto è anche una delle grandi qualità dell'arte, non è soltanto il quadretto perfettamente realizzato, nei toni realistici, ecco, e questo sia, credo, il motivo che ha colpito molte persone. Girando un film a Hollywood che si chiama Single White Female, inserzione pericolosa in italiano, abbiamo girato una scena in cui Birgis Fonda era legata ad una sedia con dello scotch, e uno scotch in fagno, quasi messo sulla bocca, quindi non poteva parlare. Scena penosa per un attore che deve stare lì a lungo, e Jennifer Jason Leigh che la minacciava girandola attorno. Io ho fatto La Luce, e Barber Schroeder, il regista, a un certo punto ha detto, Luciano, ma sai che questa luce che sta facendo mi ricorda Suspiria, e abbiamo visto che Birgis Fonda ha cominciato a dimenarsi nella sedia, che voleva dire qualcosa, non gli si poteva togliere il nastro perché era doloroso, allora ho dato un pezzetto di carta e ha scritto, così con la mano imprigionata, ha scritto Suspiria, perché Suspiria? Abbiamo letto, e Barber Schroeder ha detto, perché l'ha fatto Luciano? Lei non l'aveva realizzato, Luciano ha fatto Suspiria, si è voluta far togliere, ha cominciato a urlare, a dire, ma è il film più bello della mia vita, è quello che mi ha spinto veramente a fare il cinema, non è l'unica testimonianza, voglio dire, rispetto al successo in America. Suspiria è stato un film di successo, certamente, ha avuto successo negli Stati Uniti, molto, ha avuto successo in Francia, in Germania, in Danimarca, in Giappone, dappertutto ha avuto successo. È stato, è uno dei film, perché esiste ancora, per fortuna lo possiamo ancora vedere, diciamo, a parte il successo immediato nella distribuzione subito appena fatto il film, però è un successo che continua probabilmente all'infinito, perché ha colpito, io credo, questa commistione di horror film, in senso base, però raffinatissimo, concettualmente molto elaborato, psicologicamente estremamente ricco. è stato sposato e trasmesso da una forma estremamente innovativa.